buongiorno oggi andremo a preparare le melanzane ripiene allora come sempre giù nell'info box vi lascio gli ingredienti per la ricetta completa allora iniziamo subito con il procedimento allora per prima cosa ho tagliato delle patate a spicchi e le ho messe in acqua fredda e le ho messe da parte poi andiamo subito a tagliare i pomodorini in quattro pezzi dopodiché andiamo a tagliare le melanzane a metà e poi dopo averle tagliate a metà con l'aiuto di un coltello e di un cucchiaio andiamo ad eliminare la parte interna mettendola da parte ok una volta fatte pulite tutte e quattro le parti delle melanzane passiamo a fare il ripieno allora all'interno del boccale versiamo appunto il pane la mollica di pane e impostiamo 30 secondi velocità 5 e la mettiamo da parte dopodiché inseriamo nel boccale l'interno della parte interiore delle melanzane e le andiamo a tritare per 10 secondi sempre a velocità 5 andiamo a raccogliere il tutto sul fondo con la spatola e poi andiamo a versarci la mollica di pane che abbiamo appunto sbriciolato in precedenza poi andiamo a mettere il prezzemolo andiamo a inserire il parmigiano i pomodorini i capperi e poi andiamo a salare e andiamo ad inserire un filo di olio e le uova ok andiamo ad impostare per 40 secondi velocità anti orario spiga e aspettiamo che passino i 40 secondi ok a questo punto il nostro impasto è pronto e lo andiamo a versare in un contenitore adesso andiamo ad inserire dell'olio all'interno del boccale senza averlo lavato naturalmente ci mettiamo anche uno spicchio d'aglio e poi andiamo a farcire appunto le nostre melanzane con il ripieno che abbiamo preparato e le andiamo a posizionare all'interno del varoma una volta riempite tutte e quattro le melanzane se ci avanza un po' di impasto lo andiamo a mischiare con le patate prive di acqua andiamo appunto a mischiare il tutto e poi le andiamo a posizionare all'interno del cestello andiamo anche a mettere il parmigiano sia sulle melanzane che sulle patate andiamo a metterci un filo di olio sulle melanzane e poi andiamo ad inserire all'interno del boccale il cestello l'acqua il tutto senza fare il soffritto andiamo a posizionare il nostro varoma e prendiamo anche un foglio di carta da forno e lo andiamo a posizionare sopra il varoma prima di metterci il coperchio in questo modo la cottura sarà migliore e andiamo ad impostare temperatura varoma 50 minuti velocità 1 allora sta per terminare il tempo di cottura e a questo punto la ricetta è terminata e adesso andrò a sistemare le melanzane all'interno di una sperlonga e a fianco ci metterò le patate come sempre poi alla fine del video vi metto una foto della ricetta impiattata giù nell'info box troverete gli ingredienti quindi la ricetta completa e se vi è piaciuta mettete un mi piace e se volete iscrivetevi anche al mio canale vi do un consiglio quando dovete aprire il varoma prestate attenzione perché è davvero ostionante ok vi lascio alla prossima ricetta un bacio ciao